Hobby Center è a Parma dal 1968, tante le idee a regalo per le tue occasioni speciali. Vasta scelta di modellismo dinamico come trenini e plastici, tanti modelli di auto ed aerei e radiocomandate di ultima generazione. Ampia offerta di nuovi prodotti di marca per tutti i gusti e a disposizione dei modellisti un attrezzato laboratorio. Cercaci sul sito hobbycenterparma.it dove puoi anche effettuare ordini online. Hobby Center offre assistenza ricambistica sui propri prodotti.